Oltre le difficoltà spesso insormontabili della vita quotidiana, le famiglie dei militari non rientrati dai campi di prigionia soffrono il tormento della mancanza di notizia certa. Dei 230.000 soldati italiani partiti con l'Oxir nel 1941 e con l'Armir nel 1942, circa 80.000 sono stati fatti prigionieri. Di questi, solo una minima parte è rientrata a casa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!